Un congresso cittadino sulla scia degli ottimi risultati elettorali ottenuti di recente. Venerdì dalle 19 a Palazzo Broletto a Pavia, Azione si ritroverà per eleggere il segretario cittadino del capoluogo. Un momento di confronto e di strutturazione ritenuto fondamentale dal segretario provinciale Tommaso Bernini. Al primo appuntamento con le comunali di Pavia, Azione ha preso il 5%, mentre alle europee, sempre in riferimento al dato di Pavia Città, il 6, al congresso verrà presentata la mozione unitaria di Gianni Balduzzi. Importante darsi un segretario, la mozione unica è quella presentata da Gianni Balduzzi che è già stato segretario di Piuropa, si è candidato con noi ottenendo un ottimo risultato, di conseguenza è una persona molto affidabile che ha un percorso ben delineato. Quindi Azione si riconferma su Pavia Città e vogliamo continuare a fare un buon lavoro e sarà molto utile anche per noi consiglieri, per me in primis, come metodo di raccordo tra quelli che sono appunto i consiglieri e la società civile, gli iscritti. Se a livello locale il clima di serenità, lo stesso non può dirsi del piano nazionale, con le numerose defezioni degli ultimi giorni. Emblematici i casi Gelmini, Carfagna e Versace. Per questo è necessario rimettere al centro della discussione i contenuti. È inutile negarcelo, ci sono stati delle frizioni all'interno del partito a livello nazionale. Ci siamo detti subito che ripartire attraverso i contenuti è l'unico strumento in grado di far vedere fuori ai cittadini che cosa è azione. Per cui abbiamo subito in mente di fare dei gazebo e degli eventi, parleremo di Yuscole e del perché. È una riforma assolutamente essenziale per questo paese, soprattutto nei 30 anni a venire.